Via Libera Maggioranza in Commissione Bilancio ha la proposta di risoluzione in merito al programma di lavoro della Commissione Europea. Sentiamo in proposito il relatore del provvedimento Alessandro Corbetta. Sicuramente la Lombardia esprime una forte contrarietà a una diminuzione da parte della Commissione Europea dei fondi sulla PAC e sulla coesione sociale, in quanto una riduzione di questi finanziamenti andrebbe a impattare fortemente sulla nostra agricoltura e sul tessuto economico e sociale lombardo. Inoltre diamo mandato alla Giunta e al Governo nazionale di proseguire nell'azione sul contrasto dell'immigrazione clandestina. Chiediamo una valorizzazione e un'autonomia maggiore di Regione Lombardia anche nei confronti dell'Unione Europea. La Regione Lombardia vuole contare di più in Italia e in Europa e con questa risoluzione andiamo in quella direzione.